Prosegue l'attività di controllo delle forze di polizia. Nella giornata di ieri è stato denunciato un cittadino per inosservanza del DPCM e due attività commerciali sono state deferite al prefetto per la inosservanza dell'obbligo di chiusura. Stanno partendo in queste ore anche controlli sui pullman in entrata nella città di San Severo. Tuttavia, proprio perché mi è stato segnalato da alcune forze di polizia, devo lamentare, faccio rimostranze a voi, per alcuni atteggiamenti di alcuni cittadini irridenti, irriverenti nei confronti di chi, uomini in divisa, stanno svolgendo il loro lavoro nell'interesse di noi tutti, a salvaguardia della salute pubblica. Quindi vi chiedo di evitare atteggiamenti rispettosi nei confronti di chi sta svolgendo il proprio lavoro. Chiedo soprattutto a chi porta il cane a fare la pipì, di andare uno soltanto, alla spesa una persona soltanto, non si muove l'intero nucleo familiare, di evitare ogni forma di assembramento. Nelle prossime ore partirà anche l'attività di sanificazione delle strade. Vi daremo nella giornata di domani comunicazione dell'orario preciso in cui questa attività avrà inizio, perché da quel momento in poi sarete invitati a non abbandonare le abitazioni per consentire questa attività in maniera più agevole e per anche salvaguardare la vostra salute. Sembra nella giornata di domani daremo il numero telefonico a cui gli anziani, le persone con età superiore ai 65 anni e diversamente abili, potranno telefonare per approvvigionarsi di farmaci e di beni di prima necessità. Proprio perché vogliamo consentire agli anziani di non essere costretti ad abbandonare le proprie abitazioni. Anzi, reitero l'invito a tutti loro di stare in casa e di non uscire. Sto ricevendo in queste ore tutta una serie di quesiti, di dubbi, di problematiche che mi vengono poste dai cittadini. Intendo certamente rispondere ad ognuno di questi quesiti e di questi dubbi. Vi chiedo di postarvi sulla pagina Miglio Sindaco perché nella giornata di domani diffonderemo un vatemecum in cui daremo risposta a ogni singola questione che voi mi sottoporrete. Restiamo a casa, tutto andrà bene.